Ma, praticamente, mi dice, praticamente, cioè, è messo, ma mi dice che è stato rimasto dall'utente, non è stato rimasto da te. Scusate, ragazzi, sto dicendo una cosa. Sei ancora in live? Sì, no, 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 poco fa l'ho levata. L'hai rifatta? Sì, sì, sì. Va bene, raga. E qua, raga, io posso rubire. L'abbiamo capito, sei il Flavio Gamer. Guarda, mettete like, se volete ancora, la mia page. Oh, no, facciamo una cosa. Cosa? Guarda, facciamo una... Oh! Oh! Eh? Oh! Che c'è? Eh? Mi c'è fatto un bug. Cosa? Stavo passando, e il vostro vecchio è andato al 2 e la cimitero al 3. Aspetta, vedo, vedo. No, non ce l'ho più il bug. Mi sono più venivato. Vabbè, appena finisciamo, sto dicendo appena finiamo, vado a vedere. Vabbè, no, 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 non ho sbagliato, non ho sbagliato nulla. Ho sbagliato, ho fatto una partita, vabbè, la gioco. Ma direi, chi è a testa la visualizzazione? Scrivete. 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 Oh, quanti commenti, vediamo con me. E mettetevi al mio canale. Oh, raga, oh, ci ho 15 iscritti, tu ne hai 10. Oh, me stanno commentando. Raga, scrivete, scrivete, mettete pure i cuori. Cioè, guardate pure il video. Oh, io già c'ho tre commenti, una visua. Ma che culo, eh. Cosa? E di ripetere al mio canale, passate al mio canale. Passa al suo canale anche. Manuel The Gamer 2006. Manuel The Gamer. Manuel Reineri, Manuel Reineri. Se dico lei, Manuel The Gamer. Però il mio canale, Manuel Reineri, sto facendo la live Clash Royale. Difenditi, scemmo. Oh, scemmo, tu ci sei. Ma, c'ho le guardie. Sono fighissime le guardie, lo sai. Hai le guardie pure tu? Le trovate? Sì, io ce le ho. Perché? Ma perché tu sei canale da due. No, nel mio... Nel mio iPhone no. Cioè, nell'iPhone di mio padre c'ho Barbari Scelti, c'ho guardia, c'ho un bordo di cose. Allora, gli hai fatto la torre. Sì, ho, gli hai fatto la torre. Ma, come ti chiami? Piero04 mi scrive, come si chiama l'app che usi? Live si chiama. Basta che scrivi live e ti spunta. Si chiama Live Street, cioè Mobizen Live. Ce la trovi? La trovi. Passate pure al mio video, per favore. Dai, passate pure a lui. Manuel Veneri. Oh, se guardate poi nei video recenti, vedete che ho trovato? Il bordo è leggendario in Live, ve lo può dire anche lui. È vero, praticamente abbiamo fatto una battaglia 2 contro 2. E praticamente abbiamo battuto il nemico così velocemente. Che, sì, io sono in Arena 1, quindi non mi può dare mai bauri leggendario. Però a lui gli hai dato il bauri leggendario. Quindi, raga, è una cosa impressionante. A lui gli hai dato il bauri leggendario e a me gli hai dato il bauri leggendario. Ho buttato il bauri leggendario. Oh, madonna, ti sto facendo un po' di casino. E che vuoi, che vuoi. Tu sei infaricato. No, avete perso. Sei infaricato. Sì, sì. Mi ho un punto di spessa per il bai e lo sto subito. Ma mettila, c'è una volta ogni tanto, c'è una volta che succede niente. No, mi senti io. Ah, eh, scusa, Flavio? Ma che cosa hai visto? Ho visto il culo. Hai visto quanto ho visto? No, io non mi sono accorto di niente. Non mi sono accorto, non mi senti io. Non mi senti io la richiesta. Eh, sono. Regione, non si è fatti nascosti, non si sono fatti nascosti, è fatti da incinta, finora, non si sta fatti nascosti, il rispetto di una testa nel luogo Francesca. E se ne finisce, ha sapegato la regola di Freyda. Manuel Rai Neréi. Bella, 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 bocca, l'ha 0-4. Ma perché 0-4? Perché ti chiamo a Bolo? Sei un mito.